Emergenza migranti oggi al centro di un incontro a Roma tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e i sindaci delle città metropolitane, tra cui Bologna. Ce ne parla Francesco Tomei. I sindaci hanno chiesto al governo di fare più squadra sul tema dell'accoglienza. È stato il primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, a farsi portavoce dell'istanza in un incontro chiesto dal Lanci al ministro dell'interno Piantedosi. Sul tavolo i numeri di un'estate con oltre 115 mila sbarchi in aumento dell'86% rispetto a un anno fa. Flussi eccezionali davanti a cui ci sarà un'assunzione di responsabilità da parte dei comuni garantisce Lepore, chiedendo all'esecutivo di fare altrettanto. Noi abbiamo avanzato alcune proposte come l'ampliamento del sistema SAI a livello nazionale perché è il sistema che fino adesso ha dato certezza di organizzazione. Non grandi centri ma un'accoglienza diffusa e un'assunzione di responsabilità chiara sulla prima accoglienza dei minori che è dello Stato. I comuni possono fare la propria parte sulla seconda accoglienza. Il governo si è preso qualche giorno per le risposte, ha detto il sindaco di Bologna, sottolineando un dato politico emerso dall'incontro nella capitale. Evidentemente per voce di questo ministro degli interni, che ringrazio per l'incontro, non si parla più di blocchi navali, non si parla più di respingimenti, ma si parla di gestire con i territori l'accoglienza diffusa. Io oggi da questo incontro prendo atto che c'è una disponibilità a lavorare assieme.